Ok, sono arrivato finalmente, con vostra grande gioia, al termine di questa pressoché interminabile lista di cose tediose di cui vi ho raccontato, che sono i miei fumetti preferiti. È arrivato il momento di chiudere il cerchio raccontandovi quello che è il fumetto italiano mio preferito, l'unico patente a questa lista, anche se tecnicamente in realtà non sto parlando di un fumetto nello specifico, ma sto parlando di un autore. Un autore che la mia cara sorellina mi ha fatto scoprire di fatto regalandomi un giorno di Natale questo volume. Sto parlando di Zero Calcare e sto parlando di tanti suoi lavori. Zero Calcare è un autore che nasce soprattutto grazie alle sue strisce più o meno comiche, più o meno autobiografiche pubblicate sul web. E le sue graphic novels, se vogliamo, i suoi romanzi e fumetti di fatto sono l'insieme di queste storie. Ve li faccio un pochettino vedere, almeno quelli che ho recuperato finora. abbiamo diversi. Il primo è stato La profezia dell'armadillo, edito nel 2011, e poi ce ne sono stati tanti altri. Attualmente ho accumulato anche altre storie, ovvero Un polpo alla gola, Ogni mani è detto lunedì su due, Dimentica il mio nome, 12, l'elenco telefonico degli accogli, che appunto è stato il primo che mi è stato... che mi è arrivato. Ho poi preso Coban Curling e di recente Macerie Prime, Macerie Prime che poi ha avuto un seguito Macerie Prime sei mesi dopo. Piccola parentesi, grazie sorella per avermi portato a spendere così tanti soldi. Per il resto, che cosa posso raccontare? La storia di Zero Calcare è in realtà apparentemente la storia di uno come tanti, circa trentenni, che cerca di andare avanti nella vita. È particolarmente autobiografica, per certi aspetti, la storia di Zero Calcare ed è raccontata con uno stile grafico assolutamente divertente ed umoristico, che affonda i suoi elementi narrativi nell'immaginario collettivo e nella cultura pop degli ultimi 20-30 anni, di fatto. Sono tantissimi, quasi infiniti riferimenti che si possono trovare nelle varie storie di Zero Calcare, riferimenti che per me, che sono un trentenne, sono assolutamente lampanti, sia per il background formativo Disney che posso aver avuto, sia anche per il background più rivolto all'animazione giapponese, che ha tanto influenzato la cultura della mia generazione in determinate periodi storici. Come detto, è un tono assolutamente umoristico quello utilizzato da Zero Calcare, ma che, a seconda della storia che decidi di raccontare e a seconda del passaggio nel singolo volume, può avere dei toni invece assolutamente seri, tragicomici e drammatici. Se vogliamo, anche se è un paragono un pochettino forte, potrebbe essere vagamente, vagamente paragonato a una sorta di fantozzi, se vogliamo, il personaggio di Zero Calcare. Magari l'aspetto satirico viene a mancare e subentra invece l'aspetto fantastico, fantasioso. È un personaggio stralunato, quello di Zero Calcare, nelle sue opere, e di fatti c'è il famoso armadillo, una sorta di suo angelo custode, se vogliamo, che in realtà sia un angelo che un demone custode, a seconda dell'occasione, che rispecchia tutto sommato le sue paranoie, le sue difficoltà a relazionare il suo lato terreno pratico di tutti i giorni, come tirare a campare, oppure le difficoltà della vita di relazioni con le altre persone, con il suo fatto magari un pochettino più artistico. Infatti l'autore Zero Calcare è lo stesso Zero Calcare, artista di fumetti, che appunto è presente nelle storie. Ci sono, come ho detto, infiniti riferimenti. Gli stessi personaggi subiscono delle metamorfosi rispetto a una canonica identità corporea umana, se vogliamo. Basti pensare alla mamma Lady Cocca o all'amico cinghiale, che sono elementi ricorrenti nelle sue storie. Secondo me, per certi versi, Zero Calcare è assolutamente apprezzabile, soprattutto per quelli della mia generazione, ma anche tutto sommato per qualcuno un pochettino più giovane, perché riesce, con degli elementi dell'immaginario ben radicati, quelli della mia fascia d'età soprattutto, a dare un senso di solidarietà dal tuo punto di vista. È una persona che vive e ha vissuto le cose che hanno caratterizzato il nostro passato, il mio passato, e che caratterizzano il nostro presente. Se volete una lettura assolutamente divertente, ma che riesce anche a essere più sagace e più intelligente di quello che apparentemente sembra, non posso che consigliarvi tutti quanti i lavori in realtà di Zero Calcare. Dovendo scegliere fra i vari volumi quello mio preferito, appunto l'elenco telefonico degli accolli, è personalmente quello un pochettino più slegato da una narrativa di fondo, una sorta di storyline orizzontale, che di solito in realtà caratterizza ciascuno dei volumi e in alcuni casi, da un certo punto di vista, con Andario degli Anni, si è visto che c'è una storyline complessiva unica, fin dal primo dei volumi pubblicati, la profezione della modello fino agli ultimi. Come detto, è uno forse dei fumetti più appassionanti, degli autori di fumetti più appassionanti che ho seguito negli ultimi anni e che ho seguito da sempre e non posso che consigliarvi queste bellissime e appassionanti vicende, divertentissime storie di questo pazzo con l'armadillo.